Ciao a tutti ragazzi, oggi parliamo delle nuove scarpa Rebelleran Calibra ST la nuova scarpa da Skyrunning e terreno soffice di casa scarpa di cui adesso insieme vediamo pregi e difetti all'interno della scensione completa Iniziamo come al solito da qualche caratteristica fornita dalla casa per queste Calibra ST Per quanto riguarda la suola, troviamo una suola presa proprietaria della scarpa in particolare il modello TRN04 con un tassello da 5 mm un'intersuola in eva a media densità con un drop di 4 mm una chiusura boa con il modello LI2 e tutto per un peso di 320 grammi nella taglia 42 da uomo E adesso che abbiamo visto qualche caratteristica iniziamo con i pregi e difetti Iniziamo come al solito dalla suola per queste Calibra ST Qua troviamo la classica suola presa di casa scarpa in particolare come dicevo il modello TRN04 che è il modello più grippante il modello più soffice quello che dà il miglior riscontro su terreni fangosi e nevosi infatti questa scarpa ha avuto modo di provarla su fango e devo dire che è veramente veramente ottima Devo dire che è un po' una scarpa all-round si può utilizzare un po' ovunque per quanto riguarda il grip Per quanto riguarda invece l'usura tenderei a utilizzarla un pochino meno su delle superfici particolarmente dure oppure su delle strade di fondo valle abbastanza semplici perché lì rischieremo che la scarpa tenda a usurarsi molto in fretta però devo dire che per un trail autunnale invernale in cui sappiamo che dovremmo trovare tanto tanto fango beh da quel punto di vista è veramente una super scarpa Continuiamo arriviamo a parlare dell'intersuola qua troviamo un'intersuola come vi dicevo in eva a media densità la media densità abbiamo imparato a conoscerla ovvero è quell'ottimo compromesso tra ammortizzazione e reattività in questo caso secondo me tende un pochino più verso la reattività questo perché è una scarpa poi lo vedremo pensata soprattutto per le breve e medie distanze è un'ottima scarpa per correre ad alti ritmi se ci corriamo a 4 km la scarpa risponde molto molto bene non avremo problemi a correre ad alte velocità e per aiutarci comunque un po' per quanto riguarda l'ammortizzazione abbiamo un inserto sempre in eva ma a bassa densità posto nel tallone nel momento in cui andiamo ad appoggiare proprio completamente di tallone devo dire comunque un intersuola siccome è molto ben studiato per una scarpa veramente molto reattiva per quanto riguarda la parte superiore dell'atomaia iniziamo dal puntale un puntale bello strutturato col quale possiamo prendere dentro in qualche roccia radice e non sentiremo nessun dolore l'atomaia diciamo che non è sicuramente il punto forte non è nemmeno il punto debole di questa scarpa a livello di traspirabilità siamo nella media mi sarei immaginato un qualcosina in più soprattutto per questa ST visto che ho pensato magari per andare sul fango ed è molto probabile quando si va sul fango, su neve che ci si bagni la scarpa, la calza all'interno mi sarei immaginato un pochino in più di traspirabilità quello sì però devo dire che comunque dal punto di vista della tomaia proprio di costruzione della tomaia è una tomaia bella resistente sicuramente non si strapperà molto facilmente questo anche perché attorno a tutta l'avampiede troviamo il classico fascione della famiglia Ribelle Run che va a proteggere oltre al nostro piede anche la tomaia stessa continuando arriviamo a parlare del tallone troviamo un tallone bello strutturato un tallone che comunque accoglie molto bene il piede con un collare nella parte superiore abbastanza morbido devo dire che poi tra il tallone e l'intersuola con questa scarpa è veramente difficile scavigliare io l'ho utilizzata anche su delle roccette bagnate devo dire che comunque ha avuto il suo perché soprattutto per quanto riguarda la stabilità la parte naturalmente più interessante è l'allacciatura perché qui troviamo diverse tecnologie iniziando dal sock fit che è la linguetta di questa scarpa e troviamo una linguetta comunque molto molto avvolgente ben progettata avvolge veramente molto bene il collo del piede e poi la chiusura come avete già visto è col boa boa modello LI2 non è altro che quello che girandole in senso orario chiudiamo la scarpa e girandole in senso anti-orario andiamo ad aprirla quindi abbiamo una regolazione millimetrica sia in chiusura sia in apertura il tutto insieme al sistema VRAP 360 studiato da scarpa e boa che garantisce comunque un'ottima allacciatura devo dire che questo sistema VRAP 360 mi sono sempre trovato bene perché è quello che garantisce una miglior chiusura che non ci fa tanto rimpiangere i lacci per quanto riguarda la soletta di queste calibra ST qui troviamo una classica soletta di scarpa io mi sono sempre trovato bene con le solette che utilizza scarpa tu direi che mi sono trovato bene anche con questa andrei avanti a utilizzarla senza nessun problema anche se volendo è comunque sostituibile per quanto riguarda la grandezza dell'avampiede qui troviamo un avampiede di larghezza diciamo normale non è troppo stretto come si potrebbe immaginare da questo tipo di scarpa ma non è nemmeno un avampiede enorme wide se avete un piede particolarmente grosso dovrete sicuramente mettervi nell'ottica di dover prendere magari mezzo numero o una taglia in più in base poi al tipo di calzata che più desiderate ma per chi consiglio queste scarpa Ribelle Run Calibra ST secondo me sono ideali per un atleta medio evoluto un atleta che corre tanto che riuscirà sicuramente a sfruttare tutta la sua reattività un atleta che fa gare di breve distanza molto esplosive perché comunque secondo me la distanza della maratona è un po' il limite di questa scarpa Calibra sopra la distanza della maratona andrei a cercare qualcosa di un pochino più amortizzato la consiglierei meno magari a un atleta che si sta approcciando al trail running semplicemente perché mi immagino magari un atleta che cammina tanto e che non riuscirebbe a sfruttare tutta la reattività che propone questa Calibra per quanto riguarda invece i terreni dove utilizzarla secondo me va bene un po' ovunque come vi dicevo per quanto riguarda il grip anche se tenderei a utilizzarla soprattutto sui terreni morbidi perché i terreni più duri tendono a farla usurare molto facilmente detto ciò arriviamo al concluso per queste scarpa Ribelle Run Calibra ST vengono vendute a un prezzo di 189 euro sul sito scarpa online si trova qualcosa meno devo dire che per quanto riguarda materiali e performance beh non posso fare altro che consigliarvi la scarpa io mi si sono trovato veramente molto bene non ho avuto nessun problema materiali ottimi quindi dal punto di vista dei materiali sicuramente una super scarpa dovrete sicuramente prendere in considerazione voi in base al terreno su cui correte abitualmente se ha più senso acquistarla o meno e detto ciò ragazzi nella speranza sia stato l'esaurenza sostivo anche per questa recensione vi ringrazio per la guardata e noi ci vediamo alla prossima ciao ciao